Una diga senza acqua. Quella che vedete alle mie spalle è la diga di isolato in Val Chiavenna, svuotata per permettere le operazioni di manutenzione. Ma cosa vuol dire operativamente? I nostri amici di A2 hanno sostituito lo scarico di esaurimento, in questo caso fondamentale per erogare il DMV, deflusso minimo vitale, richiesto per mantenere l'ecosistema nel torrente a valle dello sbarramento e, essendo posto nel punto più depresso della diga, capace anche di garantire uno svuotamento completo dell'invaso. Hanno anche introdotto due nuove valvole a farfalla nella galleria di derivazione, che alimenta le turbine della centrale idroelettrica per produrre energia elettrica pulita e rinnovabile. Queste valvole sono grandi rubinetti, cioè lenti che, ruotando attorno ad un'asce perpendicolare al flusso, lo bloccano in caso di necessità. I sedimenti accumulati nel tempo sono stati rimossi meccanicamente ad invaso vuoto. E che fine hanno fatto? In questo caso erano molti metri cubi, per capirci abbastanza per riempire tre volte la torre di Pisa, e sono stati usati per realizzare un vallo paravalanghe. Una vera e propria opera ingegneristica.